Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio sulle mod di Dragon Box Xenoverse 2 In questo video vi porterò una mod su Chilled, o Killed, dipende da come volete chiamarlo Chilled appare solo in uno special, diciamo, nella quale attacca un pianeta sul quale va a finire Bardak Dopo che il pianeta Vegeta viene distrutto, se non avete capito di chi stavo parlando, eccomelo qua Chilled dovrebbe essere un antenato, se non il nonno, diciamo, vuole dire una cavolata, di Freezer Allora, prima andremo a provarlo in allenamento e poi andremo a fare una vera e propria battaglia Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio, spolliciata più non posso Per continuare a sostenere la serie, ed inoltre, se non vi siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale E ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi Di questa o delle altre serie che sto portando Allora, direi di andare subito a provarlo No Cambiamo musica, mettiamo questa Proviamolo contro Ma sì, contro un SaiBan, dai Tanto è solo un allenamento Allora, come sempre, impostazioni, nascondi tutto La mod mi pare ben fatta, ragazzi Voi cosa ne dite? Non mi dispiace neanche un po' Allora Vediamo di provarla subito La combo base con quadrato Forte, anche se bisogna dire che l'avversario è un SaiBan Allora, quella con pesante, con triangolo, ragazzi Tutto qua Ok, va bene, non fa di più La presa Che è la solita dei clan di Frisa Poi come mosse abbiamo L'onda letale Ok Il raggio letale Che è la tecnica di Frisa E poi abbiamo lo squarcio letale Devasto Ok, ragazzi Abbiamo visto l'onda letale Il raggio letale Lo squarcio letale Cioè, tutto letale La carica massima E poi abbiamo La supernova color Con la quale ha praticamente distrutto il SaiBan E la sfera letale di Frisa E poi abbiamo come mosse difensiva La mosse psichica Che ce l'ha anche Frisa Allora, questa è la moda Ora andiamo a combattere Allora, eccoci qua ragazzi Andiamo a scegliere Killed o Chilled E affrontiamo Beh, a dire il vero Potremmo affrontare anche il Bardak Della mod che ho portato La scorsa volta Cioè, la scorsa volta Un 3-4 video fa E combattiamo Qua sul pianeta degli Tsufuru Anche se mi sarebbe piaciuta di più Un'altra Un altro stage Allora, ragazzi Eccoci qua Lo scontro Tanto mi fa un po' paura Affrontare questo Bardak Perché Mena Magari vi lascerò il link In descrizione Del video su Bardak Non ci posso credere Ah, ma allora E' una cosa delle modere Stare imbambolate L'avevo detto Che prima era così debole Cioè, così forte Perché Uh, si è trasformato In Super Saiyan Stavo per dire In scimione Quindi Super Saiyan 2 L'hai presa seriamente la cosa Oh, non l'avevo visto Beh, una cosa è certa In questo stadio Di Super Saiyan 2 Lui dovrebbe batterci Come niente Prendi questo Supernova Caller Vediamo se sopravvive Cavolo, è sopravvissuto Ma non è ancora finita Sparisci insieme a questo pianeta Se la lanci magari Forse lo colpisce No, 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 no Eh, non sono riuscito A schivarla Uh, colpito in pieno E siamo riusciti Ad avere la meglio Ragazzi Mamma mia Ok Io spero ovviamente Che la mod Vi sia piaciuta A me non dispiace Sinceramente Anzi Quindi ragazzi Io vi saluto Mi raccomando Ricordatevi di lasciare Un bel like All'episodio Per continuare A sostenere la serie Ed inoltre Se non vi siete iscritti Vi invito ad iscrivervi Ad attivare la campanella Delle notifiche Per non perdere I prossimi episodi Ciao ciao E al prossimo video Ciao 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 ciao